L'argomento che tratteremo sarà Luigi Pirandello. Luigi Pirandello nasce da Grigento nel 1867. Nel 1886 va a Palermo per iscriversi all'università e successivamente si trasferirà a Roma, ma a causa di un dissidio con il rettore dell'università di Roma sarà costretto a spostarsi a Bonn. Nel 1891 si laurea in Filologia e Romanza con una tesi sul dialetto di Grigenti. Nel 1904 pubblica il Fumatia Pascal, il primo di una lunga lista di successi letterari che lo porterà all'assegnazione del premio Nobel nel 1934. Muore a Roma nel 1936. La poetica di Pirandello è fortemente influenzata dal clima decadente dell'epoca. Infatti sono cadute tutte le certezze del positivismo. E uno dei punti fondamentali della propria poetica è il relativismo. Ovvero per Pirandello tutto è relativo e non vi è nessuna concezione assoluta. Non vi è una vera differenza tra il bene e il male. E non vi è una vera differenza tra ciò che può essere considerato giusto e ciò che può essere considerato sbagliato. Altro punto fondamentale della poetica di Pirandello è la perdita dell'identità dell'uomo. Ciò deriva dalla lettura di un saggio di Alfred Binet, l'esalterazione della personalità, nel quale viene descritto come l'io ormai si è frantumato in diverse parti e quindi l'uomo non ha più un'unica e sola identità. E questo porterà alla creazione della poetica delle maschere. Per Pirandello le maschere rappresentano dei ruoli sociali e tutti quanti devono indossare queste maschere se vogliono vivere all'interno della società civile. Ciò si contrappone alla vita, quella che sta dietro la maschera, costituita da impulsi e da forze primitive, che naturalmente si scontra contro la società costituita. Per questo motivo l'uomo può avere tre diverse reazioni di fronte alla maschera e quindi di fronte al ruolo sociale cristallizzato. La prima reazione è la reazione passiva, ovvero l'uomo decide di accettare la maschera passivamente senza protestare e forse senza rendersene conto. La seconda reazione è quella ironico-umoristica. L'uomo in questo caso è cosciente di avere una maschera e utilizza questa maschera per arrivare al proprio scopo e al proprio obiettivo. La terza reazione è la reazione drammatica. L'uomo vuole togliersi la maschera e quindi vuole abbandonare la società civile, ma questo lo può fare solamente a un costo molto alto, o con la perdita della vita o con la perdita della ragione. Abbiamo parlato della reazione ironico-umoristica e questo ci collega a un'altra caratteristica fondamentale della poetica di Pirandello, ovvero l'umorismo. Secondo Pirandello vi è una grande distinzione tra il concetto di comicità e il concetto di umorismo. La comicità viene descritta come un avvertimento del contrario, mentre l'umorismo viene descritto come un sentimento del contrario. Per capire meglio, Pirandello ci regala all'interno del suo saggio L'umorismo, pubblicato nel 1908, un esempio paradigmatico. Immaginiamo una donna molto anziana che si veste e si trucca come una ragazza. Questo naturalmente provocherà grande comicità e quindi questo è solamente l'avvertimento del contrario. Ma poi Pirandello cerca di descrivere le motivazioni per cui questa signora si veste in questo modo. E molto probabilmente è innamorata di un uomo molto più giovane di lei. Ed ecco che subentra piano piano l'umorismo, ovvero il sentimento del contrario. Dopo un'iniziale risata superficiale, vi è qualcosa di più profondo che porta a ragionare sulle motivazioni di questo personaggio immaginario. Per quanto riguarda le opere, una delle opere più importanti di Luigi Pirandello è il Fumatia Pascal, pubblicato per la prima volta nel 1904. Mattia Pascal è un uomo ingabbiato all'interno di un lavoro molto noioso, quello del bibliotecario, ingabbiato anche all'interno di una vita matrimoniale che non lo soddisfa più. Per questo motivo decide di andare a Nizza e poi decide di andare a giocare a Monte Carlo all'insaputa di tutti. E dopo aver vinto una grossa somma di denaro, mentre ritorna sul treno, legge sul giornale della propria morte. Ovvero, i concittadini si accorgono della sua assenza e dopo aver trovato un cadavere all'interno di un fiume, Mattia Pascal decide di ricominciare una nuova vita, cambiare luogo, cambiare nome e cambiare il proprio aspetto. Mattia Pascal si innamorerà di un'altra persona e vorrà iniziare una nuova esistenza, però tutto viene bloccato dalla mancanza dei documenti. Infatti, Mattia Pascal, per potersi sposare, ha necessità di avere dei documenti. Ma, per la società, Mattia Pascal non esiste più, è morto. Così, Mattia Pascal è costretto a ritornare alla vecchia vita. Questo è il tipico esempio di una reazione passiva, ovvero Mattia Pascal prova a togliersi la maschera del bibliotecario, ma in realtà non ci riesce. Nel 1925 viene pubblicato un altro romanzo, molto importante, Uno, Nessuno e Centomila. In questo caso, il romanzo tratta di Vitangelo Moscarda, un uomo che ha ereditato la banca dal suo padre e che ha sempre vissuto nel lusso. Un giorno, la moglie di Vitangelo Moscarda gli dice come effettivamente il suo naso, il naso del protagonista, è leggermente storto. E da questo piccolo particolare nascerà una vera e propria crisi di identità che porterà il protagonista a cambiare vita e a cambiare tutto. Tant'è vero che comincerà a dissipare tutte quante le ricchezze della banca, si innamorerà di un'altra persona e tutte queste azioni lo porteranno ad essere rinchiuso all'interno di un manicomio. Vitangelo Moscarda rappresenta la reazione drammatica, ovvero l'uomo che cerca di togliersi la maschera e di far andare avanti la propria vita, anche a costo della propria sanità mentale. Nel 1922 Pirandello pubblica la prima edizione di Novelle per un anno. Il titolo sembra cercare di dare un certo ordine, Novelle per un anno, ovvero una novella per ogni giorno dell'anno, quindi all'incirca 365 novelle, anche se Pirandello riesce a scriverne solamente 300. In realtà dietro questo titolo si nasconde una metafora, ovvero la metafora della vita. Infatti all'interno della raccolta delle novelle tutte queste storie sono messe senza un ordine ben preciso, senza seguire un ordine tematico e ciò rappresenta una sorta di collegamento alla vita. La vita sembra essere ordinate ed equilibrata, ma in realtà è ricca di caos. Pirandello avrà una ricca attività drammaturgica e l'attività teatrale pirandelliana può essere suddivisa in quattro parti. Nella prima fase si parla appunto di teatro siciliano. Un esempio importante è la commedia Lì o là e in questa fase Pirandello utilizzerà molte volte il dialetto per far dialogare i propri personaggi. La seconda fase è quella ironico-umoristica e naturalmente ricalca la reazione ironico-umoristica, ovvero i personaggi sono consapevoli della loro maschera e la utilizzano per arrivare ai propri scopi e ai propri interessi. La terza fase è quella più sperimentale, detta anche teatro nel teatro, ovvero fase metateatrale. Nella maggior parte di queste opere, ad esempio sei personaggi in cerca d'autore, Pirandello cerca di mettere scena di solito una compagnia che a sua volta sta facendo delle prove per uno spettacolo teatrale. Quindi si parla appunto degli intimi meccanismi del teatro. Inoltre Pirandello per la prima volta nella storia del teatro cerca di abbattere la quarta parete, ovvero la parete immaginaria che divide l'attore dal pubblico. Tant'è vero che nelle opere della fase metateatrale gli attori non recitano solamente sul palcoscenico ma sono disposti in tutti i luoghi del teatro. L'ultima fase, quella meno sviluppata, è il teatro dei miti. Visto che la vita è ricca di caos e non ha un senso, è necessario per l'uomo ritornare a una fase mitica. Un esempio su tutti è I giganti della montagna. Anche per oggi abbiamo concluso, ci vediamo alla prossima video lezione. Mi raccomando, buono studio.